Un incontro di informazione che apre ad una futura e proficua collaborazione a beneficio degli studenti. L'istituto professionale Pittoni di Pagani ha ospitato la prima edizione di Degustantlo, promosso dall'Associazione Nazionale Titolari di Laboratorio Odonto Tecnico. Diversi professionisti hanno illustrato agli studenti il tema dell'alimentazione e masticazione. Soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico e dai rappresentanti dell'associazione. La prima edizione di Degustantlo, una manifestazione che noi abbiamo fatto con l'associazione Campania degli odontotecnici per inaugurare un percorso che deve essere fruttuoso e fattivo per i nostri allievi, per far sì che essi si mettano nel mondo del lavoro con grande professionalità e con una preparazione di qualità che il nostro istituto assicura ai nostri studenti. Noi abbiamo realizzato questo progetto dell'alternanza scuola lavoro prendendo come laboratorio di partenza proprio la Campania che grazie alle scuole territoriale abbiamo sviluppato questa sinergia con gli odontotecnici già esperti e dare questa loro esperienza ai ragazzi perché essenzialmente noi pensiamo che qualsiasi categoria, quindi nello specifico l'antro, se i ragazzi che vedono in noi il loro domani, senza di loro noi non avremo più futuro perché i loro sono il nostro futuro e quindi dobbiamo impegnarci come categoria in prima istanza a migliorare proprio la qualità professionale di questi ragazzi. Antlo ha portato a compimento il percorso dell'alternanza scuola lavoro. Sono stati impegnati i nostri migliori relatori a portare le nostre conoscenze che viviamo quotidianamente nei nostri laboratori ai giovani futuri odontotecnici che saranno quelli chiamati in un futuro prossimo a ricevere il testimone sia in ambito professionale che in quello associativo. Abbiamo messo in campo i nostri migliori uomini a portare queste relazioni completando quindi questo percorso. Grazie. Grazie.